Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo nel Panteon Egizio per parlare di una figura divina molto figa, ma allo stesso tempo abbastanza sconosciuta, di cui non sappiamo tantissimo, ma che i giocatori di Smite conosceranno anche fin troppo bene. Oggi parliamo del dio dalla testa di leone o con il mantello di leone, della caccia e della guerra del mito egiziano. Oggi parliamo di Anur. Bando alle ciance e sigla! Prima di cominciare vi ricordo che ho scritto due libri, Il destino di Loki e Il dovere di Adel. Trovate i link in descrizione per recuperarli in formato cartaceo e kindle su Amazon. Trovate in descrizione anche i link per diventare patron, abbonati, fare donazioni, liste dei siti di Amazon, coffee, eccetera, eccetera. Per seguimi su tutte quante le pagine social, ovviamente. C'è il link per lo store di Pamplin, codice sconto, griffit per avere il 20% di cash perché è un paio di calzi in omaggio su ogni vostro acquisto che afferite in questo store sconfinato di magliette con grafiche a tema nerd. Lo store delle magliette del canale è la pagina Iri the Mond in Contatto, pagina di servizi su commissione gestita da me e dal team di Aspeti e da Pumpkin Queen. Se volete racconti su commissioni, illustrazioni, gestione delle vostre pagine social, dei vostri post e anche il montaggio di brevi video, trovate il link in descrizione e contattateci pure. Detto questo, ragazzi, incominciamo a parlare di questo dio. Molto importante da un certo periodo in poi, ma sicuramente non il più conosciuto delle divinità egiziane in generale, perché poi il suo ruolo è stato assorbito da questo o quell'altro dio, come lui a sua volta in realtà ha assorbito un parte della mitologia di dei delle volte più importanti di lui. Anur o Inhert, in egiziano, noto con il nome greco di Onuris o Anuris, è un dio della guerra e della caccia. È un dio molto importante nella regione di Tini, nelle vicinanze di Abidos, ed è ritenuto essere uno dei dei protettori di suo padre Rama, della sua famiglia, ne parleremo fra un po', dai nemici vari ed eventuali che potrebbero provare ad attaccare il dio sole, compreso il buon vecchio Apep o Apophis, il serpente del caos, cosa che ha meritato come epiteto a questo dio il soprannome di uccisore o sterminatore dei nemici. Ma il suo nome in realtà significa colui che riporta colei che è distante con una corda, in riferimento probabilmente all'unico mito che vede veramente protagonista Anur nella mitologia egizia, e che è paradossalmente un mito condiviso con altre 47.000 figure del panteon egizio. Vi ho già parlato dell'occhio di Ra, la dea furibonda che viene ideata con la stessa essenza del buon Amon Ra, e che nella maggior parte dei miti, un giorno in preda alla furia, decide di abbandonare la protezione del divin padre per andarsi in un luogo lontano, tendenzialmente la Nubia. E a quel punto l'occhio di Ra di turno, che potrebbe essere Bastet, Sekhmet, Hathor, o la stessa Iside o Tefnut, viene ritrovata da quello che diventa suo marito poi, quindi tendenzialmente Shu nel caso di Tefnut, Horus o Osiride nel caso di Hathor, Sekhmet e vari ed eventuali, o nel caso migliore, nel caso di Iside o Osiride ovviamente. Nella versione in cui la dea, occhio di Ra, dalla forma leonina, è Meneth o Menith, conosciuta anche come Mecheth o Mechit, il dio che viene inviato, figlio di Ra in questa storia, accompagnato dal buon Thoth, è proprio Hanur, che fa un lungo viaggio verso la Nubia, va a parlare con Mecheth o Mecheth, e grazie anche all'opera di persuasione di Thoth, riesce a portare indietro la dea, facendone poi sua moglie. Ciò paragona però principalmente Hanur al dio Shu, perché il fatto che lui sia specificatamente il figlio di Ra è abbastanza un unicum, è l'unico altro dio che va a riportare indietro un occhio di Ra ed è contemporaneamente figlio del dio sole, è proprio Shu, il dio dell'aria del mito egizio. Ma banalmente ragazzi, essendo due dei leonini, Hanur e Mecheth o Mecheth sono due facce della stessa medaglia, nel mito egizio, forse lo saprete, tutti gli dei funzionano praticamente a coppia, hanno una loro controparte maschile e femminile. Mecheth è la controparte femminile di Hanur, dio leone, e incarna perfettamente ciò che ogni dea leonessa come Sekhmet incarna. Una furia implacabile, posta però a protezione della difesa del popolo, del dio, del re di turno. Ma che se perdi il controllo, può ammazzare tutto. Mecheth in realtà è originaria dell'Alto Egitto. Aveva il suo centro del culto a Esna, dove però era ritenuta essere in realtà la moglie di un altro dio. Qui era la moglie di Khnum e la madre di Eka. Poi però, si è incrociata con la figura leonina di Hanur, ed è sorto il culto ben più popolare di Sekhmet nel basso Egitto, e quindi con l'unificazione dei regni, la dea leonina dell'Alto Egitto e la dea leonina del basso Egitto, si sono abbastanza unificate. Alla fine Sekhmet ha assorbito Mecheth, ma rimane la traccia di Hanur e Mecheth come marito e moglie due dei leoni. E ciò non esclude, tra l'altro, che Hanur possa essere ritenuto anche il marito di Sekhmet delle volte, essendo comunque originario del basso Egitto. Però Hanur è estremamente importante, quantomeno nell'iconografia. Non solo lui è figlio di Ra, canonicamente, delle volte è anche figlio di Hathor, la dea femminile dell'amore collegata al sole, collegata alla figura della vacca cosmica, ma la sua iconografia lo pone in un posto di altissimo rilievo. La maggior parte delle volte Hanur non viene rappresentato con una testa di leone, ma vestito delle volte con una pelle di leone, è il viso di un uomo con una lunga barba e con sul copricapo ben quattro piume, che sono un simbolo di divinità e regalità particolarmente elevato per l'iconografia egizia. Nella mano destra impugna spesso una lancia, da qui il signore della caccia o il signore delle lance come suo epiteto, e anche quando nell'iconografia non impugna la lancia, la mano destra è sempre atteggiata nell'atto di scagliare un dardo. Nella mano sinistra invece il dio ha sempre una corda, in riferimento al momento in cui lui ha viaggiato per riportare indietro la dea leonina incazzata come una iena. Per quanto originato a Tini, come vi ho già detto, in realtà il suo centro del culto è nel Delta ed è nella città di Sebennitos, l'attuale Samannud. Ed è qui effettivamente che viene canonizzato il fatto che lui è un aspetto, l'aspetto più guerriero, più violento di Shu, vista le similitudini fra le loro storie. E alla fine Anur si è mangiato Shu, nel senso che a un certo punto, grazie alle varie invocazioni da parte di grandi sacerdoti e faraoni, è diventato più popolare di Shu e quindi ha preso proprio il posto. E per un certo periodo Anur era molto importante. Come detto, i ruoli principali di Anur sono due. Lui è il didore della guerra e il didore della caccia, principalmente per la sua iconografia e la sua presenza in amuleti apotropaici che guerrieri e cacciatori portavano addosso quando andavano a lavorare. Nella sua versione di didore della guerra, Anur palesemente rappresenta, quando specie è rappresentato nella sua forma più leonina, la forza in combattimento. Per gli egizi i leoni erano il simbolo di forza assoluta, probabilmente. i più grandi protettori di quello che poteva essere il regno egizio. E Anur non era da meno, viene sempre rappresentato guidare le cariche dell'esercito egizio, ma per quanto ad Anur vengano ad attribuite caratteristiche di forza, violenza e foga in battaglia, a differenza delle idee leonesse simil Sekhmet che possiamo trovare in giro per il mito egizio, che per quanto collegate anche all'arte e alla conoscenza strategica bellica sono più furibonde, Anur invece è più collegato proprio alla strategia, alla tecnica, all'utilizzo dei giusti armamenti, dei giusti utensili. Quindi in realtà era collegato più alla strategia. E pare che tutti quanti i guerrieri facessero benedire le loro armi in nome di Anur, in modo che fossero resistenti e fatte bene e potessero aiutarli in combattimento. Tra l'altro, a quanto pare, Anur era abbastanza collegato proprio alle opere d'ingegno. Era il dio che proteggeva anche semplicemente chi aveva delle belle idee, e anche chi aveva idea di spirito. Quindi c'erano interi feste dedicate a canti e balli per Anur, feste farsesche praticamente, che culminavano spesso e volentieri in finte battaglie. Battaglie e scherzo, come se fosse un gioco fra bambini, ecco. Tuttavia, come tante altre divinità della guerra, il nome di Anur veniva invocato durante le battaglie dei faraoni di turno, che si eleggevano come figli o protetti di Anur per vincere le battaglie. Storicamente abbiamo almeno tre esempi in cui Anur viene evocato in battaglia al fianco del condottiero faraone di turno. Nella battaglia di Meghido fu Tutmose III a evocare Anur in modo che portasse l'esercito alla vittoria. Nella battaglia di Kadesh, invece, Ramses II invoca il nome di Anur in modo che possa ispirare strategia e idee geniali all'esercito. Invece nelle campagne libiane, il faraone Merneptah si è affidato alla protezione di Anur in modo che i libici venissero sconfitti. Proprio questo suo culto della guerra lo avvicina ad altre divinità guerresche, sia egiziane che estere. Il primo paragone che si può fare è con l'idea della guerra a Montu, con cui effettivamente Anur condivide parte dell'iconografia. Per primo, le piume, che sul copricapo di Montu sono due, a differenza che su Anur, che ne ha quattro. Ma tra la cultura greco-romana, Anur era la versione egizia di Ares e di Marte poi. Sarà che qui è cominciato il percorso per cui Ares è diventato dio anche della strategia bellica. Però nella storia in cui gli Olimpi sono fuggiti in Egitto per scappare dalla furia di Tifone, Ares pare che si sia trasformato in un pesce chiamato Lepidoto o Onuris, che è il nome del dio leone della caccia e della guerra, per l'appunto il buon Anur o Inert. Per quanto riguarda il patronato sulla caccia, è un qualcosa di molto più iconografico che è effettivamente effettivo. Visto che il dio è collegato all'andare a riprendere una dea, e quindi il suo nome è letteralmente... vado a riprendere qualcuno che è distante, anche se quel significato può essere anche cambiato con colui che regge il cielo, che riporta il cielo. E non si sa perché significherebbe così il suo nome, ma vabbè. E visto che poi ha una lancia in mano, è stato associato col passare del tempo alla caccia, quindi ogni oggetto relativo alla caccia veniva benedetto dalla benedizione di Anur. Ogni oggetto veniva marchiato con simboli sacri ad Anur, e i cacciatori facevano dei sacrifici, dei rituali pre- e post-caccia, dando un pezzo di ciò che avevano cacciato in sacrificio al dio, e c'erano dei rituali appositi durante la caccia per fare in modo che il cacciatore fosse al sicuro e che portasse a compimento in maniera succosa il suo lavoro. Col passare del tempo però altre divinità hanno preso il sopravvento, e nello specifico qui dobbiamo parlare ancora una volta di Horus, che si pappa il buon Anur fondendosi con esso. Infatti abbiamo la nascita dell'immagine del guerriero protettore del regno perfetto, Horus Anur, simbolo di forza, di coraggio, di tenacia e di intelligenza. Praticamente il salvatore della patria. In territorio nubiano questo dio, Horus Anur, viene rinominato Aries Nefer, o Arens Nufis, o Ars Nufis, o Arens Nufis. Dio che sciogli lingua. Che significa Horus dalla bellissima casa. Un dio che così sincretizzato pare fosse anche lo sposo di Iside, e quindi sincretizzato anche con Osiride. Ma in realtà la figura di Anur fuso Osiride è anche un altro concetto abbastanza diffuso, perché poi i due dei si fondono anche qui e creano una maxi confusione incredibile. E ciò porta alla costruzione della Per Shù, la casa di Shù, ad opera dei faraoni Nectanebo I e II, che è un tempio dedicato alla figura di Onuris Shù, ovvero a Shù fuso con il dio Anur, che a sua volta è collegato a Osiride. E in tempo tolemaico verrà edificato un tempio dedicato alla figura di questo maxi dio fuso, Horus Anur e Osiride, che verrà posto a fianco al tempio di Iside sull'isola di Phile. Per chi non lo sapesse, il complesso monumentale con il tempio di Iside a Phile è l'ultimo tempio egizio che è rimasto in funzione nella vita vera. Fino al V secolo d.C., questo tempio, abbandonato a se stesso in pratica, e che adesso è patrimonio dell'umanità, è stato attivo, centro del culto egizio, ultimo Eiseo, tempio di Iside, in funzione, con l'arrivo ormai galoppante del cristianesimo. Signori, questo è tutto quello che c'era da dire sul buon Anur, che in cultura popolare è poco diffuso, ma c'è. Per l'appunto, Anur è una divinità che si può giocare nel MOBA Smite. Non so in Smite 2, francamente, lo scopriremo in questi giorni. Appare molto fugacemente, insieme a sua moglie, nell'ultimo libro della trilogia di Kane Chronicles, scritto da Rick Riordan, e pare essere uno dei vari boss del videogioco Boss Rush Mythology, che prima o poi dovrò provare. Inoltre, essendo abbastanza scemo, io ho, insieme al team di esperti, dato soccorso a un gatto grandaggio abbastanza stronzetto nei pressi della dimora del team di esperti, e essendo che sto gatto pareva uno che buscava sempre mazzate da tutti e da tutti, seppure sfregiato un occhio, ho deciso di chiamarlo dall'alto della mia bontà a Nuris, sperando che uno proteggesse gli intorni della casa, e due, gli venisse un po' di cazzimma. Cazzimma che a quanto pare gli è venuta, perché l'alpha che lo picchiava sempre è sparito, e suppongo che a un certo punto a Nuris se lo sia ammazzato. Quindi, un piccolo dettaglio di colore della mia vita privata. Ecco, bene. Ragazzi, con questo, con questa piccola nota di colore è tutto, e io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo video. Bye!